Partirà domani la quarta edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani. La manifestazione, che si svolgerà dall'8 al 19 novembre, come per gli anni precedenti, chiamerà a raccolta tutte le associazioni napoletane e campane che si occupano di cinema. Importante per la città trattare un tema che è quello dei diritti, ma soprattutto incontrare gli autori, fare in modo che ci siano dibattiti sui temi trattati dei più svariati, ogni quartiere assume in sé il compito di parlare di un argomento e ci sono tante bellissime persone, esperienze, che hanno un tempo di protagonismo in questo percorso che è assolutamente significativo, anche perché è la testimonianza di quello che succede in città al di là dell'evento. Anche quest'anno il Festival sarà strutturato in quattro sezioni, comuni e quartieri, scuole e università, eventi speciali e internazionali e concorso cinematografico. I dati quest'anno sono strutturali perché abbiamo diviso il Festival in due settimane e quindi abbiamo pensato di dedicare la prima ai comuni e ai quartieri, quindi agli spettacoli che faremo e agli argomenti che tratteremo che riguardano le realtà delle periferie di Napoli e dei comuni della fascia metropolitana. La seconda settimana, a partire dal 14 novembre, sarà invece dedicata agli eventi speciali e internazionali. Come nostra consuetudine parleremo di diritti universali con protagonisti che vengono anche da altri paesi del mondo. La Scuola per l'Europa, diritti e cinema, sarà invece il concorso per le scuole che troverà spazio all'interno del Festival ispirandosi al tema dei diritti dei minori. Noi siamo sempre stati convinti, l'abbiamo usata anche come parola d'ordine, anche se le parole d'ordine non ci piacciono, che la cultura comincia a scuola. Tutti i tipi di cultura, la cultura cinematografica in particolare, che tra l'altro trova a scuola un terreno fertilissimo perché l'educazione all'immagine è forse un'educazione che indipendentemente dall'agenzia formativa a scuola i giovani ragazzi sentono fortemente, è il loro linguaggio preferito e quindi è chiaro che per mediare i valori che la scuola poi media, i valori di cittadinanza, il cinema è uno strumento potentissimo da tutti i punti di vista, in particolar modo poi l'associazione di cui stiamo parlando cura delle rassegne sui diritti umani che hanno una importanza, una valenza, non solo quindi per la forma cioè per il contenitore che è il contenitore cinema ma soprattutto per il contenuto.